E va basta, non lo dico io da una vita che gli allenatori è andato a riunire i cartoni tutti quanti distintamente, chi è un cartone migliore, chi è un cartone più elegante ma sempre quello devono fare. E dici pesce, Galeona ha fatto dieci mila volte prima di sacco, solo che Galeona l'aveva pescata e usava il sacco allenava a Rijkaard va basta e i culli banesi con sta qua, di nuova cipa, madonna mia! dobbiamo volerci bene, senza stare insieme non è fatto semplice